Si è concluso con il successo di Paolo Andreucci, quindicesimo rally città di Arezzo e Crete sienesi, dopo un duello appassionante durato due giorni con un altro tra i migliori rallysti italiani, Umberto Scandola. L'espertissimo pluricampione italiano, il 56enne lucchese di Castelnuovo Garfagnana e il navigatore Rudy Briani si sono imposti su una Skoda Fabia R5, conquistando la quarta prova del campionato italiano rally Terra, valevole anche per il campionato italiano rally Terra Storico, per il tricolore cross country rally side by side, gara per il Tour European Rally Series moderno e historic e appuntamento conclusivo del Challenge Race di Rally Terra 2020-2021. Dopo otto prove speciali fra sabato e domenica sulle strade bianche, aretine e sienesi, tra queste anche l'Alpe di Poti, Andreucci ha avuto la meglio per appena nove secondi sul veronese Umberto Scandola, al volante della sua Hyundai i20 R5 con Fappani, navigatore. Andreucci era già salito sul gradino più alto del podio in questa gara nel 2008 e l'anno scorso.